Ho presentato questo esposto perché se fosse capitato a qualsiasi altro cittadino di San Martino di Luperi di essere a conoscenza di quel maldestro intervento di manutenzione del verde, a quest'ora sarebbe già stato sanzionato. Un'oiuola che diventa un caso. Non si placa la polemica a San Martino di Luperi per il taglio degli alberi nella zona verde tra via Vittorio Emanuele e via Casoni. Dopo l'esposto formalizzato dal consigliere comunale Luca De Santi che descrive il troncamento delle piante come un maldestro intervento di distruzione del verde pubblico, la palla è passata al sindaco Nivo Fior. Ha dichiarato che ha fatto una denuncia contro i gnoti, quando i gnoti non sono perché un suo assessore ha dichiarato di essere stato a conoscenza di questo intervento e falsamente dicendo che gli uffici, ambiente e lavori pubblici ne erano a conoscenza. Una vicenda che non trova ancora chiarezza, quella della viuola sulla rotonda di Casoni. Perentoria invece la richiesta del consigliere comunale De Santi. Noi chiediamo che venga fatta luce perché per rispetto dei cittadini qua c'è stato un danno patrimoniale, un danno ambientale e soprattutto dal punto di vista politico credo che un assessore che dichiara un falso sostanzialmente dicendo che gli uffici hanno a conoscenza di tutto non abbia la credibilità per andare avanti.